Buongiorno a tutti, quest'anno OP 2020 ospiterà Il Pagante, una famosa band che propone musica commerciale. Ci sarà DJ 2P, noto DJ di molti artisti come Mischilla, Fabri Fibra, Marrakesh. Ci saranno anche Sikliuk, giovane promessa producer della scena romana, nonché pioniere della Dark Polo Gang. Inoltre ci saranno due artisti della zona, che sono NMJ, giovane talento di Riva del Garda. E infine ci saranno gli Shufflers, un duo, elettro trap di Trento, che ci proporranno le hit del momento, rimixate con altri brani della trap italiana, producendole direttamente sul palco in anteprima. Quest'anno non ci sarà una specifica proposta musicale, si spazzerà dalla musica commerciale alla musica trap, che sono due generi in voga tra i giovani, in modo da andare a contentare tutti i due pubblici.